Ben ritrovati sul canale Il Vino Alcalice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Sono Gigi, sono Sommelier e in questo video parleremo di nuove frontiere per l'affinamento del vino, per fare bella figura ma senza esagerare. Abbiamo parlato in video di questo canale del superamento della tendenza a consumare i vini cosiddetti biancocarta grazie al diffondersi o potremmo anche dire alla riscoperta della macerazione per le uve bianche. Abbiamo poi, sempre un altro video, visto il moltiplicarsi di cantine che iniziano ad adottare l'anfora per l'affinamento. Anche qui, novità o riscoperta? Beh, oggi continuiamo sul terreno dell'evoluzione dei gusti del vino, parlando del modificarsi dell'utilizzo delle botti derivate dal legno di quercia, le famose barrique, le botti in rovere. Sappiamo che il tempo trascorso in botte da certi vini migliora la loro sfumatura e la loro consistenza. Modifica i sentori, i sapori e i colori. Per lungo tempo la barrica ha domesticato tannini, regalato complessità e profumi terziari. Oggi i gusti dei consumatori chiedono un'influenza meno invasiva. La fermentazione e l'invecchiamento del vino in tini di acciaio inossidabile, in serbatoi di cemento, in anfore di terracotta e in vasche di polietilene, offrono soluzioni organolettiche più in linea con le richieste del mercato odierno. Davanti a questo, però, lungi dall'essere escluso, il legno ha trovato nuove forme di utilizzo. La quercia viene comunque usata ma con botti più ampi delle barrique. Più grande è la vasca, minore infatti è l'esposizione e l'assorbimento da parte del vino di quelli che sono i sentori dati dal legno. Quindi i terziari derivati dal legno non sono più così invasivi come prima. Un'altra modifica sta nella tostatura delle doghe, che viene alleggerita. Anche in questo modo il tostato passato al vino si riduce e vengono favoriti i sentori di frutta e spesso quelli di agrumi. Fino a qui abbiamo parlato di riduzione del legno per far fronte ad una fascia di consumatori che richiedono maggior originalità rispetto al classico affinamento, i botti di rovere. Ma in alcuni casi l'originalità passa anche attraverso dei legni e delle tostature che trasmettono sentori ancora più esotici, più spostati verso i sentori della pasticceria. Quindi frutta candita, pasta sfoglia, biscotti, crema alla vaniglia. Ed ecco allora la comparsa di nuovi tipi di legno, come la quercia mongola della Cina, il cedro spagnolo dal Messico e l'amburana del Brasile. Si tratta di soluzioni che vanno ad arricchire il panorama del vino. Qualcuna probabilmente non sarà all'altezza della qualità gustativa che ci offrono le soluzioni più tradizionali. Altre invece potrebbero riservare delle belle sorprese. Da parte nostra possiamo informarci bene sui prodotti che scegliamo di assaggiare e sul metodo usato per produrli in modo da poter dare la nostra valutazione personale. Come sempre se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate dei like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per rimanere costantemente aggiornati. Alla salute!